Siamo in Veneto, nel cuore del nord-est, un paesaggio scandito dai vigneti e dai capannoni industriali. Dall'inizio degli anni Ottanta questa zona è considerata la locomotiva d'Italia, una parte della penisola prospera e industriosa. E' proprio in un giorno di quegli anni Ottanta, magari in un giorno di settembre in cui le scuole hanno riaperto da poco, che la signora Del Piero accompagna il suo Alessandro dal professore di ginnastica che allena la squadretta del paese, San Vendemiano. Un pomeriggio è arrivata una signora, mi ha portato un bambinetto e mi ha detto professore per piacere me lo tenga perché a casa mi rompe tutto. Ecco, questo è stato il primo incontro fatto con Alessandro Del Piero. Ogni momento per noi libero, per me soprattutto era qualcosa di rotondo. Se c'era poco spazio diventava una pallina da tennis, se c'era tanto c'era il pallone, il pallone di spugna per non far rumore se dorme a qualcuno. Volendo giocare sempre, non sempre i miei amici e compagni, non sempre ci si poteva vedere, spesso c'era brutto tempo per cui in garage piccolino, mio padre tirava fuori la macchina apposta e io dentro giocavo. Intanto Madre Natura ha fatto quello che fa una volta ogni 10.000, ogni 1.000, non lo so, la statistica, dare quelle doti di essere un asso, un campione. Certo, le doti tecniche di Alessandro sono un dono di Madre Natura. Ma sono state affinate in ore e ore di interminabili partite nella vigna dietro alla casa dei Del Piero. Mi ricordo una sera con un suo appa che era qualche serata, che stavamo lì fino alle 10, quelle serate estive a luglio, così, fino proprio al buio quasi. Finché un giorno mio padre era elettricista e tirò praticamente una prolunga e appese, siccome giocavamo parte di questo campetto, era con dei tralicci nelle viti. Posizionò tre lampadine e in poche parole noi avevamo il campo illuminato, ci sembrava una cosa da partite di Coppa Campione. Però è stato uno dei momenti più belli della mia infanzia. Alessandro gioca nella squadretta del suo paese, quando, come in tutte le storie degli eroi del calcio, viene il momento in cui un osservatore capita da quelle parti. Quando ho visto Del Piero, stavo andando su per la tribuna e mi sono bloccato. Madonna! Col dorso del piede, e la mette giù. Porca puttana! Mi sono bloccato, mi sono fermato. Lo gira con l'interno del piede, e poi con l'esterno del piede, va via dalla trappata. Ma con una facilità, con una rapidità, che io ho messo di più a dirlo che a pallo. Vittorio Scantamburlo, ex giocatore del Padova, costretto a lasciare il calcio giocato a 24 anni per un infortunio, è colui che per primo ha creduto in Alessandro Del Piero. Questa è l'agenda che io mi segnavo, diciamo, i nominativi delle varie squadre. Su questa vecchia agenda del 1987, tre crocette rosse segnano il momento in cui la vita di Alessandro prende una strada nuova. Tre crocette sarebbe l'ottimale. L'ottima è ottimo, cioè è un giocatore che per dargli ottimo va fuori dalla norma. A 13 anni sono andato a Padova con tanti sogni, ma con un'avventura completamente nuova. A Padova, il giovane Del Piero vive in questo convinto. E questa è la sua camera da letto che per tre anni divide con un altro ragazzo. tutte le mattine va a scuola tutti i pomeriggi si alline. Ancora adesso, ma soprattutto prima ero timidissimo, quindi spostarmi in tutto e per tutto con una scuola, con un compagno di squadra, affrontare una situazione totalmente nuova di vivere da solo insieme ad altri ragazzi nella stessa situazione a 13 anni è una situazione ecco, un momento delicato è stato. Il momento delicato dura poco. Del tiro, stop, tocco, tiro, e palla sul palo! Di categoria in categoria il bambino timido continua a incantare. A soli 16 anni è già considerato il gioiello della squadra primavera del Padova. Batte Del Piero, è ancora una grande deviazione questa volta. Quali sono le vostre prospettive in questo torneo? Noi, prima esperienza che facciamo. La fama del giovane Del Piero si spande rapidamente nel circondario. Le televisioni locali si interessano a lui. Del Piero Alessandro punta a 16 anni. E i loro pittoreschi conduttori cercano di strappare al campioncino qualche prima dichiarazione. Quanti gol hai fatto finora? Finora 29. Di certo non ho potuto divertirmi come un altro. Per divertimento intendo uscire tanto con gli amici o altre, però non ho patito questo perché il mio divertimento era al campo. Un divertimento che diventa presto lavoro. nel 1992 Del Piero fa il debutto in prima squadra in serie B. Al 26esimo Sandriani mette in campo Del Piero giovane dell'Under 19 e non è ancora finita. Al 40esimo è proprio il giovane Del Piero a siglare il quarto gollo sul passaggio di Galderisi. Noi lo chiamavamo Bomberino gli avevamo affidato questo nominio perché credo che rispecchiasse un pochettino la sua capacità di realizzare ma anche la sua simpatia la sua delicatezza nell'inserirsi in prima squadra. Giuseppe Galderisi è un calciatore esperto e prende Alex sotto la sua ala e il Bomberino cresce in fritta. Del Piero buona azione di Del Piero fa Del Piero entra in gare di rigore attenzione Del Piero attiro grande giocata di Del Piero Ma Galderisi non è importante solo per i consigli che dà in campo ha giocato nella Juventus per diverse stagioni e ha mantenuto i contatti con l'ambiente bianconero. Mi ricordo che in un amichevole qui a Padova sia Trappatoni che Boniperti mi chiamarono e volerò sapere completamente tutto su quello che era il ragazzo innanzitutto perché questo era un po' lo stile Juventus e poi il campione o il potenziale campione sul rettangolo verde. Alessandro Del Piero ha appena 19 anni quando nel giorno dell'esame di maturità arriva la notizia che la Juventus lo compra pagandolo 5 miliardi di lire arrivo ad una Juventus che per la quale avevo tifato davanti alla televisione che avevo visto fino al giorno prima in televisione ho visto Baggio viali che aveva un'esame di miller c'era una sfida E intanto gioca nella squadra Primavera. Ed ecco ora rallentata l'azione di Del Piero, lo splendido assist, colpo di tacco per l'inserimento di Cammarata che scarica il sinistro e batte il portiere della Fiorentina, Dei. Il cross e c'è calcio di rigore per intervento di Cozzi su Del Piero. Vince il prestigioso torneo di Viareggio contro la Fiorentina. È suo il gol decisivo sul rigore alla fine dei tempi supplementari. L'anno dopo è la stagione 93-94. Alla Juventus Alessandro si allena con fuoriclasse del calibro di Roberto Baggio, Gianluca Vialli, Ravanelli e un mister di nome Giovanni Trapattoni.